non è giusto così non è giusto non è giusto non è giusto io mi devo incazzare così eh io mi devo incazzare riproviamo voglio di nuovo quell'evento voglio quell'evento dammi quell'evento ricercati perfetto io mi devo riprendere boh io mi devo riprendere boh devo riprovarci perché ho fatto delle cose assurde mi ha uccisi tantissimi questa volta la stella blu me l'ho fatto io e se l'ha fottuta pure questo affanculo fa un culo ci fa un culo siamo 4 a 4 e cosa cazzo vuoi fare te vaccevi la vacci vacci oddio oddio devo distruggere la base figlio di puttana vieni qua cazzo sempre per un colpo non muoiono sempre per un colpo dobbiamo perdere pure questa cazzo cazzo no porca troia l'avevo ucciso dove lo metteva sto coso di merda qua abbiamo perso pure questa è possibile portanna la madre allora allora io non voglio dire niente voglio tanto tra tre ore c'è scritto nuovo evento quindi penso che la stagione terminerà arrivato a sto punto arrivato a sto punto cosa faremo adesso andremo a spacchettare prima di tutto queste cose qua manca anche pochissimo per sbloccare il nuovo brawler allora star rara mille monete altra star penso rimancare a questo punto 50 cento di questi manca sempre meno sbloccare rt adesso noi cosa andremo a fare andremo a giocare un po di coppia tipo andiamo a fare questo qua football c'è la sfida della mega cassa andiamo a fare la sfida della mega cassa e sblocchiamo una mega cassa dai mappa molto strana di ricercati molto aperta molto aperta quindi anche super rischiosa io ho preso questo brawler che non so nemmeno io come funzioni però è infatti infatti sono morto vediamo se riesco ad ucciderlo niente da fare comunque stiamo 10 a 11 della partita poi così messa male attenzione attenzione perché forse lo uccido dove cazzo è finito vediamo se riesco ad ucciderlo sì cioè non l'ho fatto nemmeno io si fa uccidere come un coglione vabbè anche io ne ne sono da meno abbiamo vinto abbiamo vinto vabbè ci prendiamo questa vittoria niente siamo a 5 su 12 su mega cassa incredibile andiamo a fare rapina però questa volta imprendo un altro personaggio è tipo angelo non so che personaggio sia forse non ho mai stato in vita è mio e cazzo di personaggio di merda è ma non lo so io va bene proviamo penso che fino a faremo però è scarsissimo sto coso qua che come cazzo si usa se più tiene premuto più spara lontano non ho capito come a quanto pare stiamo anche vincendo non so per quali santi ora lo distrutto senza vede bene conto abbiamo anche vinto va bene così non chiedetemi perché l'abbia rifatto è stato uno sbaglio non l'ho fatto nemmeno apposta dovevo schippare la partita mi sono messo a giocare un'altra partita ma vabbè speriamo che ci vada di culo anche questo ma se io sparo un cosa al massimo 2600 di danno ora che alla fine alla fine non fa poco danno e si è tenuto al massimo qualcosa 2600 di danno fa abbiamo vinto raga abbiamo vinto di nuovo io non me la spiego questa cosa qua questa volta il personaggio lo cambio però è mettiamo mag come personaggio anche se football andiamoci a prendere che questa star 1 a 0 subito pizza ha segnato la pizza raga ma che cazzo fai ma che cazzo fai ma veramente sei rincoglionito proprio sei porca troia però dai dai uccidilo vabbè ci penso io dai vai a segnare dai pizza segnato di nuovo 2 a 0 partita super vinta a raffa gemme andremoci a prendere andremoci a prendere non fateci caso andiamo a prenderci anche questa star un colpo li ho tirato l'ho distrutto mamma mia sì certo il mio personaggio spara il mio compagno piuttosto che i dei miti vabbè già capito in che squadra siamo mi sa una ragliata e li uccido dovremmo vingerla questa partita è troppo semplice ma sono diventato di nuovo grosso incredibile ok abbiamo finito siamo a 6 vittorie consecutive e poi siamo a meno 10 da 26.000 coppia ci mancano le star di duelli e k.o. andiamo a fare questi duelli i duelli sono sono assurti sono l'ho distrutto eccolo dov'è che ho visto subito ma è semplicissimo chitarrista già sai dove diventare vero cazzo 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 divento di nuovo enorme attenzione chitarrista si mette male per te è incredibile perché il chitarrista è quello che mi sta dando più fastidio non me l'aspettavo sì sì l'ho ucciso l'ho ucciso ho vinto il round 7 win di fila 26.000 coppe 300 monete non mi aspettavo qualcosina in più vabbè k.o. anche in questo evento c'è la star per bloccare alla super cassa vediamo se riusciamo a vincere anche questo evento ok perché cominciamo nel migliore dei modi forse uh allontaniamoci 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 vieni qua vieni vieni qua vieni ti caghi sotto eh coglioncello ma cerchiamolo vabbè non fa niente dai l'abbiamo distrutto vediamo se riusciamo a vincere facilmente anche questo round direi di sì dinaminche c'è dinaminche cazzo abbiamo vinto bellissimo super easy 8 8 vittorie consecutive ci mancano solo due star incredibile due star dove le posso trovare due star una star è in l'evento specchio qui ma poi non ce ne sono più allora come faccio me ne mancava una me ne mancava non è possibile non è possibile vediamo se poi ne spunta un'altra non lo so facciamo questa per ora oddio oddio siamo tutti uguali ecco cos'è l'evento specchio ma che cazzo è è assurda questa cosa qua non si capisce niente raga brock uccidi brock cazzo brock uccidi brock se non uccide brock ma che cazzo non si capisce niente raga sparo dei missili a cazzo ma chi è oh mio dio mio dio ma io non capisco una cosa perché non sono dello stesso colore dei miei compagni e sono del colore degli amici avversari perché sono un botto di gemeli brock mi ha ucciso brock uccidi brock si 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 dai 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 ritorna cazzo cazzo e abbiamo perso contro i brock cazzo per un brock non ce l'abbiamo fatta per un brock e niente abbiamo perso abbiamo perso anche le super win porca troia non ci volevo questa andiamo a rifarlo ma questo evento si fa solo in brock non ho capito molto probabilmente qualcosa mi dice che perderemo poi ci vado di sotto io senza motivo perché lo ucciso io uccisi nemmeno si io so come uccideteli uccideteli si vai prendi 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 tutto via 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 di qua via di qua abbiamo vinto perché li ho uccisi nemmeno io so come vabbè vabbè addio questo evento io non lo faccio più ancora ci sono gli otto win streak ah ma ci sono perché ah meno male meno male non era un evento con le coppe quello ecco perché mamma mia vabbè a me manca una star qua non è possibile dove la prendo adesso ma si possono comprare queste cose qua c'è una star vediamo se la apriamo magari ce ne esce una niente da fare non so come ma chi l'ha creata ma chi l'ha creata questa cosa qua via delle balle adesso per favore piuttosto mi contento a fare KO con Meg che quelle cose li grazie a tutti The thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy